eccoci in Val Palotto siamo con Francesco Bettoni il presidente della Fisi Bresciana un punto un po' sulla situazione delle gare oggi in Val Palotto comunque due gare di ottimo livello sì noi siamo fortunati e privilegiati abbiamo la possibilità di avere gli impiantisti che collaborano con noi quindi anche in maniera antieconomica tengono aperti gli impianti oggi siamo in Val Palotto condizioni stupende gara ieri bella oggi bellissima una bella giornata e abbiamo anche degli sci club che si stanno adoperando per organizzare queste manifestazioni e oggi sappiamo che tipo di sforzo sia e noi ce la stiamo mettendo tutta per evitare che venga decapitato il nostro movimento giovanile penso che più di quello che stanno facendo come come Brescia con i nostri sci club i nostri allenatori tutto non si possa fare siamo molto contenti io sono molto contento personalmente di del movimento speriamo che questo frutti i prossimi anni